A Concorezzo, l'agriturismo La Camilla offre un'ampia struttura per accogliere gli ospiti in un clima rilassante, a diretto contatto con la natura. Sette ettari di verde e ampie sale ristorante sono la cornice ideale per trascorrere il tempo in compagnia. Pranzi, cene di famiglia e di lavoro, ricevimenti e banchetti, spazi funzionali a disposizione per giornate di formazione, meeting e team building, allevamento di cavalli, sella italiana e centro ippico fise percorsi di dressage, salto ostacoli e volteggio. Agriturismo La Camilla, la qualità nel verde.